Bella a tutti ragazzi, sono Beguenti, sono qui insieme a Bart e Ciro Anche la vita di Ciro te lo verrà tra 5 ore No, non è vero Robben, allora siamo su GeoGuessere Free Perché noi siamo poveri e non ci possiamo permettere Dove appunto giocheremo E spiega, Ciro spiega cosa è GeoGuessere Va bene, lo spiego io GeoGuessere è appunto Da dove ci troviamo, non è un'applicazione, è un sito Che può essere anche un'applicazione, del luogo in cui ci troviamo In basso a alcuni scritti, alcune cose targhe non compaiono Non compaiono, ne sono alcune scritte E dobbiamo capire il luogo in cui ci troviamo E dobbiamo zoomare sulla mappa Noi siamo poveri, non possiamo giocare a questo Ma giochiamo a Free version Pronti? 3, 2, 1 e si, parte Questo inoltre è il primo video su GeoGuessere Ok, allora Alberi molto alti Montarto Non è Italia solo Potrebbe essere anche Africa O la foresta amazzonica Allora E la madonna Allora vediamo se qui ci sono tratti Ma che è quello a fare lì un casco? Un casco perché è la videocamera dove può stare Cioè, minchia Non ci sono E c'è questa foresta in merda Ah, questa è una foresta Potrebbe potenzialmente essere amazzonica Ma te quindi devi Devi indovinare È una amazzonica tutta finita Lo stato proprio Eh, no, proprio il punto proprio preciso Può essere anche una via Sì, ma senza indizi proprio Eh, in base al territorio Di solito ci sono anche i cartelli Sì, ma te lo dà un indizio? Eh, no, devi cercarlo Ah, ok E questo è un parartel nuovo Non sai che fosse Oh, è qualcosa No, Canada No, Italia non può essere, raga Italia In teoria sì No Però penso più l'Africa, questo No, Africa, no È troppo ricoglioso Allora O è tro... Allora, in Africa O c'è proprio la foresta amazzonica Cioè, è proprio Tropici L'Amazzonia sta Oppure ci sta Comunque l'eserto Non c'ha capito di mezzo L'Amazzonia sta in Brasile Allora, ragazzi Dobbiamo un attimo riflettere Abbiamo tempo infinito Questo qui È un tempo bloccato Sì, perché Se utilizziamo free No, ci abbiamo tempo infinito Allora Canada Potrebbe potenzialmente essere Però È difficile Però potrebbe essere anche Svezia No, io punto Su Brasile Eh, no, possiamo mettere solo un punto, raga Quindi Brasile No Perché bisogna essere qui Cioè Per me è Canada Allora, lei dice Canada Io dico Svizzera E Becom dice Brasile Brasile Da quando Siamo tutti corretti Canada Svizzera E Brasile quindi Sì Ok Vai Andiamo le gare Allora Cerca Allora Vabbè, io posso mettere Aspetta Ti ricordate l'emisfero? No, a te non te l'avevo fatto Comunque l'emisfero conta Sta tramontando Sta tramontando Sta sorgendo No, sta tramontando Sta tramontando Nel l'emisfero sud No, sta sorgendo Perché sorge ad est È vero È vero Sorge ad est Sud est Infatti Quindi è mattina Siamo È mattina Siamo Stamattina nell'emisfero sud Perché siamo a sud Vedi? No, non vuol dire niente Sì, invece vi conta Vai, vai No, perché non è Il sole Se sembra A mezzogiorno Vai su Vai su Io posso indovinare la mia? Sì, vai Va bene Per me è del Canada Ah, e ci danno 5.000 punti In base a quanto distante siamo Se siamo a 20 metri 40 metri 5.000 Brasile comunque Se troviamo tipo 1.000 metri 3.000 Se troviamo dall'altra parte del mondo 0 O massimo 1 Vai, vai, vai Io dico Norvegia Ah, ok Ha cambiato Perché Perché Norvegia è più Secondo me È un parco nazionale Della Norvegia Eh, raga, comunque Aspetta L'Ikea È finlandista No, l'Ikea è svedese L'Ikea, sì È per questo che scelgo questa Perché hanno tagliato tutti gli alberi 3, 2, 1 Sono più vicino io, eh Di tutti voi Sono più vicino io di tutti voi Eh, sì Perché Brasile Stamina Ha detto Brasile Tu cosa che hai detto? Stai in Inghilterra? Canada Era fottutamente Inghilterra Era perfettamente Londra Sotto Londra 2.881 punti Grande Ci sta Ok, un punto per Bart Che sta vicino di più Ok Certe volte non ci fanno muovere Oddio Questo qui l'ho fatto Brasile No, l'ho fatto Ti giuro L'ho fatto Solo che non mi ricordo È un'isola Oceania? Difficile Oddio un'isola Australia Malascar No, no, no Non era un'isola così Era Papa Guinea Papa Guinea? Mi sembra Oddio, raga Non mi ricordo Papa Guinea Però gli altri sono più alti Io provo Papa Guinea Aspetta Voi che dite? È un'isola Io Australia Io Allora Appunto Papa Guinea E vediamo Stedding In caso Avete vinto voi Era vinto Il grandissimo Ciro E non era un'isola Mi sono sbagliato Era la Repubblica del Congo Comunque abbiamo fatto No mai punti Ah, raga Io sono troppo forte Questo non ho mai No, vabbè, raga Grandissimo Infrastrutture No, infrastrutture Sbagliato Infrastrutture Eh? Oh Written Non possiamo cercare su Google Ve lo dico già Però Oh, no Zoom No, basta che ci possiamo Non capisci Oddio No, perché c'è questo? Eh, no È censurato Ah, no È censurato Kitter Kitter Road Eh, sarà una cosa Non italiana O americano Allora, raga Mi sembra botto svedesi No, è americana Le case sono americane Io punto Sono stati uniti Io direi In caso Texas Anch'io Però andiamo a vedere Un attimo Siamo su america Io però Vabbè, america Sono stati uniti Eh, sì, vabbè Eh, no Ok Vedete la targa Se ero europea Se ero europea C'era il segnetto qui blu Ma va Non l'avremmo detto Vabbè, però io Lo faccio al tutorial Per gli iscritti Allora Voi buttate Che avete detto Sare uniti Eh, però Gialla è anche inglese No No, ma inglese Eh, però lo sai che Lo sai che Sembra un po' scozzese Le case Eh, sembra scozzese Eh, sì So quelle sono uniti Però in caso Texas Quelle con cortile In caso dico Texas Vabbè Texas Io dico Allora New Orleans Io New No Io Texas perché è molto caldo Vedete che è caldo Io Colorado Io New Orleans Colorado sta qua New Orleans dove è? New Orleans Sta sotto Ah no Sta su Lo stato di Louisiana Esatto Io dico Texas Quindi mettiamo Io dico Louisiana Io direi raga Butta a caso Perché non lo so Qui Oh, perché mi fa in tempo Ok Mi essa? La madonna No, allora ha detto Però qualcuno di voi Eh, no, vabbè Era Isol of Man Eh, io avevo detto Londra Ma no Avevi detto Londra Eh, però Ti avrei cambiato l'idea Eh, però dopo Vabbè 108 punti Vabbè Cioè erano 4 in meno No, andarono meno 4 Eh, ma chi si avvicina Allora L'oggiamento africano Però Un giorno a me Uno C'è capitano Un bambino africano Un bambino africano Era Fottutamente Calabria Quindi Calabria Sì Oh, raga Questi mi sembrano botti da via Ma come cazzo fai a dirlo? No, no Non credo Ah, ok Fili, ma comunque Prima Mi è avvicinato più io, no? Che? Su Cosa? Continuiamo Comunque Dicevo 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 Prima Su New Orleans C'ero avvicinato più io In teoria Sì Sì Vabbè Vabbè Quindi Uno pari Sì No Eh, no Siamo Uno a uno a uno Eh, uno a uno No, eh sì Uno a uno Raga Non so che dirvi Perché ci sono Poi noi noi siamo sfigati Perché troviamo solo foreste Aschwitz Allora Siamo continuando Stiamo tirando a pensare Allora Io dico Italia Non so perché Ma dico Chris ho una zona tipo Tiscana No, no Io non penso in Italia Non penso in Italia Comunque Eh, cosa pensi tu? Però non è proprio Festa Amazzonica Non è foresta Amazzonica No C'è una foresta, raga Un bosco Canada 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 dove? Può essere anche qua, eh Questa è Canada Questa è Canada Questa è Canada Ai compiti degli Stati Uniti Quindi qui? Eh, invece Vengono che dice? Danimarca A caso? No Lo Danimarca non ha rilevi Mi direi È più grande di 75 metri Quindi non può essere Ok Ma Che vuol dire? Infatti Ma io voglio No Perché non ci sono rilevi Questo è fottutamente Un rilevo, raga Vedi? Scusa Allora, io dico Allora Svezia Ok Svezia Quindi Chiroga ha detto Canada Canada E siamo sempre Nessuno è accorta Allora, facciamo una cosa Visto che lui ha detto Svezia Io ho detto Italia E facciamo noi due Mi dispiace perché In casa è quello più vicino Quindi Germania Praticamente Quello in mezzo Può essere anche Danimarca, vedi? Può essere anche Svezia Non sai che potrebbe essere anche No, Ucraina Romania Che c'è? Non lo so Non ho mai visto i busti Metti, metti Dai Io posso mettere in ordine Posso mettere Tipo Toscana Sì Intanto Metti, metti Metti quello che ti pare Ve l'avevo detto Ve l'avevo fottutamente detto Era ovviamente La Calabria Però ho vinto io stavolta Sì, bravo Fottutamente Cioè guarda Da qui neanche si vede la differenza Praticamente Vabbè, è normale Abbiamo finito, raga No, c'è il quinto Sul quinto Ok, quindi No, raga È quello di prima Qual era? Ah, mezzo all'Africa Centro dell'Africa Allora, possiamo fare 5.000 Era circa qua Era del Congo Era circa qua Sì 3.881 E si guarda Ok, quindi Bartho sta a 2 Ok, allora Vediamo Vediamo un attimo Come abbiamo fatto Il primo Siamo arrivati abbastanza vicini Con la Norvegia Il secondo No, il secondo era 2 Che era Ah, ho detto Dov'è? Dov'è 2? Questo è 5? Vabbè, il 2 non c'è 1, 2, vedi? Mi sembra che c'era pure il Stato qua L'avevo pure visto Però Allora, addirittura Però potrebbe essere anche il mio Messico Cioè, Messico Dico No, no Eh, però guarda, eh Arabo Arabo C'è lo Stato Beh L'avevo visto No, ragazzi Lo ritrovo Eh, mira Di arabo Ho trovato una cosa un po' Da dissociamento Eh, ma poi c'è anche Marocco, eh Il Marocco parlano arabo No, Marocco parlano Sì, ma anche arabo Eh, però vorrebbe essere Scusa Tutta l'Africa Praticamente parlano arabo Ma che sai di No, il nord è pasta Il nord è pasta Il resto è inglese Africano 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 Beh, però Contrattore intergenziale Marocco dico io Allora, lui dice Marocco Però Marocco lo sai perché non lo dico Perché non esce mai in gioco a essere Vabbè Metti caso che esce Stavolta Sì È solo arabo, regà Potrebbe essere No, mi sa Gli ammirati arabi non possono essere Arabia Saudita, dico Albania Uè, addirittura Albania Non si parla più niente albanese No, lì si parla Anche al musulmano Oddio, raga Il musulmano Fammi un attimo vedere Sì La mia ignoranza è mua Oh, anche citto Anche citto Io dico citto Allora, vediamo Confrontiamo un attimo le scritte Ripartiamo Ritorniamo qua Anche Libia Aspetta, vediamo un attimo le scritte iniziali Sì, l'ho detto l'Africa Eh, io dico Libia Allora, confrontiamo un attimo le scritte con Sì, è questa lingua Aspetta Aspetta Me lo ricordo Che dici? Tunisia 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 Io dico Libia Non so perché Ok, entrambi Libia Io Tunisia Allora, voglio un attimo vedere se c'è per caso un mare Se c'è un mare mi metto vicino al mare perché Vabbè Non raggiunge una montagna? No Però è un po' devastata quindi sicuramente Africa Devi andare a nord Siamo tutti Io dico Siria Io dico Libia Confermo Siria Io confermo Libia E te fili d'India Vai Ma Vabbè Ma Ma chi ci guarda tanto? Scusate Aggressivo Aggressivo Dai Metti sto punto No, voglio un attimo rivedere un attimo la lingua Direi romarci Sbagliato Eccola Oh, attenzione qui vuolarsi che c'è il sito Eh, però aspettate perché questo qua Questo è indiano, vedi? Questo è indiano Ma È indiano, sì, perché c'è il diamante in testa, c'è tipo Il coso rosso in testa c'è Dove vedi? Vedi? Oh, dai fai che ci sono i calciatori Sento come stai scusa Vedi c'è il coso rosso in testa Eh, è tipo indiano, sì, sì, india Centro India Centro India Vi giuro che l'avevo visto da qualche parte Per me è Nagpur No, ma proprio il centro non può essere qua tutto ristrutto Oh Eeeh Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Grandissimo il partone C'è Telagana Vedi, era La federazione di Telagana Grande Oddio, questo potrebbe Votuto Italia Roma Roma capitale Eeeh Ma parlano Scusa Arabo Dove che parlano anche India India America Potrebbe essere No, scusa Possiamo vedere magari Qualche Più dettaglio Allora Non sono neri Scusa Aspetta Devo vedere un attimo la targa Non è un euro europea Ok Sarà secondo me Africano o Asiatica India No, di nuovo Può comparire La stessa nazione Non può comparire La stessa nazione due volte Ma Può essere però Asiatica pure Questa Oh